Non sapeva cosa fare. Io dicevo sempre che questo si mangia pane, si lavora, si sta in movimento. È un lavoro sicuro. E come? Dopo aver girato il mondo, alla fine poco più che 23enne, ha seguito il consiglio di Papa Michele, 90 anni, il prossimo 9 marzo. Con un diploma da perito chimico in tasca, ecco Marino Notarnicola, 53 anni, nella salumeria di famiglia datata a 1940, un piccolo gioiello nel cuore di Noci, meravigliosa bottega segnalata da Slow Food, seconda pensata in Italia nella top 20 dei posti dove gustare i panini più buoni. Ne prepara almeno 200 al giorno, combinando solo sapori della nostra terra, raccolti tra maserie e preparati in casa da sua moglie. Passione e fantasia fino a togliere il sonno. Le dico sempre, se un giorno chiedi la separazione, io testimoni a favore tuo, perché so di sfruttarla in questo senso. Ma quando si studia le varietà? Penso che mi vengono di notte i flash e questo è un motivo di litigio a casa. Filetto di maiale, pomodoro fresco, tonno spogliato, germogli di ravanello rosso e una spruzzata di moscato o primitivo, è solo un esempio di panino di vino con il solo pane di la terza, altamuro o matera da mangiare prima con gli occhi. E se passate d'estate non potete non assaggiare il panino alla percoco o al fico. Attenzione, armati con tanto di carta d'identità, roba da sfidare ogni tentazione, ma non si fa peccato. Possiamo dire che è tutto un ben di Dio. Certo, certo. Non ha assaggiato neanche un panino. Questo è grave, giusto, giusto.